Aveva 81 anni, riminese d'occhi, il celebre semiologo Paolo Fabri, docente dell'Alma Mater, allievo di Umberto Eco, fratello di Gianni, patron del Paradiso. Il professore, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, seguì la semiotica di Barz, Goldman e Gremat. Insegnò nelle cattedre parigine di San Diego, Toronto, Santiago del Cile e anche nel campus di Rimini. Fu grande amico di Umberto Eco, tanto che da quest'ultimo venne inserito tra i personaggi da Il nome della Rosa, come Paolo da Rimini, soprannominato Abbas Agraficus per il suo vizio di non pubblicare le proprie cerche in campo semiotico. Nel 2019 la città lo ha premiato con il Sigismondo d'Oro Massimo nell'efficienza cittadina insieme allo scrittore Marco Missiroli. Nella motivazione si leggeva che Fabri, Missiroli, due intellettuali di generazioni diverse che hanno riflettuto da visioni e prospettive eterogenee sul tema dei segni, della parole, e delle cose definite dalle parole, la capacità cioè di afferrare il significato oltre alla superficie di quanto accade nella società e nelle relazioni tra persone attraverso l'esercizio della conoscenza, del confronto aperto, della creatività. Alla vigilia del 2020, l'anno del centenario della nascita di Federico Fellini, immortale autore del tutto si immagina, il Sigismondo d'Oro sottolinea l'importanza e la necessità di uno sguardo differente sulle cose, utilizzando le parole, leggendo i segni per interpretare una società sempre più complessa, ma proprio per questo bisognosa, come non mai della relazione tra persone e tra idee. Come Rimini, città in cambiamento, la ricerca di una nuova via, oltre il mobilismo, la superficie e la convenienza, Paolo Fabri e Marco Missiroli nella loro vita hanno dimostrato e dimostrano l'assoluto bisogno di una visione non convenzionale del presente e della realtà, onorando ogni giorno la natura stessa del lavoro intellettuale.